Tra l'Egitto e il Sudan c'è una piccola area chiamata Bir Tawel. Nessuno vive qui e non ha mataglie prime. Ecco perché non è reclamata da nessun paese. Ciò significa che tu ed io potremo rivendicare questa parte del mondo e creare la nazione di paesi in un minuto. Sarà facile, perché abbiamo solo bisogno dell'approvazione delle Nazioni Unite, delle superpotenze globali e dei paesi confinanti. Quindi, sei con me?